e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 7 di fortnite dobbiamo atterrare e ballare in tre punti ben precisi il primo ragazzi la tenda la troviamo semplicemente sopra siepi da grifoglio poco prima del piccolo laghetto quindi ci atterriamo ci balliamo e la numero uno è per la seconda posizione invece dobbiamo ballare vicino a un uomo di paglia ed è l'unico presente in game quindi facilmente riconoscibile siamo alla fattoria da parte un pochettino più in basso l'uomo di paglia è questo qua gigante ci atterriamo ci balliamo vicino e anche la numero due fa per quanto riguarda invece l'ultima posizione dove ballare ovvero sia l'uomo di tubi dobbiamo andare dietro una delle montagne innevate per la precisione ragazzi siamo qua in basso sotto broghiere brumose e come vedete l'uomo in tubi di ferro è proprio questo ci andiamo sopra ci balliamo e la sfida è completata io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale